Uno dal Palabarton, Luca Pisidicca. Sì, eccoci dal Palabarton dove abbiamo appena assistito all'esordio vincente nei play-off scudetto della Bartocini, i forti d'infissi Perugia che ha battuto 3-1 Cuneo, una bellissima serata di pallavolo, una squadra che ha dimostrato di attraversare davvero un ottimo momento, vincendo il primo set in extremis 26-24, poi ha subito il ritorno avversario nel secondo con la sconfitta del set 25-22, ma è nel terzo e nel quarto che la squadra di Mazzanti ha dato il meglio di sé con una perfetta fase break e un'ottima performance a muro, 25-21 e 25-17 i parziali. Con noi un ospite molto gradito, il presidente Antonio Bartocini, certamente felice per questa bellissima serata, è stato un esordio migliore, non poteva esserci. Sì, assolutamente, un debutto fantastico, grande emozione, perché comunque stare a bordo campo per me è l'emozione tantissima, quindi è un esordio storico per noi, credo che abbiamo fatto quanto dobbiamo fare, quindi vincere da tre punti. Ora si aspetta una partita di ritorno che sicuramente non sarà facilissima, perché comunque Cuneo è una squadra solida, è difficile, dovremo fare benissimo anche mercoledì prossimo, però sono convinto che se giochiamo così veramente possiamo mettere in difficoltà qualsiasi squadra, quindi sono molto felice e andiamo avanti così. Grazie, grazie davvero al presidente Antonio Bartocini, noi dal Palabarton abbiamo concluso all'Ina allo studio.